Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Sono ben 770 i cinghiali abbattuti in questi primi sei mesi del 2017 nel territorio del Parco dei Colli Eugani, con una notevole accelerazione dei prelievi avvenuta negli ultimi due mesi, 258 a maggio e 284 a giugno. Nel prossimo fine settimana sarà organizzato il primo modulo per cacciatore, formato che consentirà ai sele controllori di uscire in autonomia. L'obiettivo finale è l'abbattimento di almeno 2.000 capi ogni anno. Ricadute negative sulla crescita economica, legalità e rischi per la salute sono i tre fronti su cui la Regione del Veneto, insieme con le associazioni dei consumatori, continuerà nel corso del biennio 2018-2019 con la battaglia per combattere la contraffazione. Lo ha reso noto l'assessore Veneto allo sviluppo economico e alla tutela del consumatore al termine di una riunione, del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, durante la quale sono stati approvati e condivisi i progetti da realizzare nei prossimi due anni. E l'ha fatto ancora un uomo sulla Trentina, pelle olivastra, capelli neri rasati, vestito con tuta di colore beige. Questa mattina intorno alle 7 in via della Madonna della Salute si è avvicinato ad una 79enne residente in zona. Con un rapido movimento le ha strappato la collana in oro che portava al collo e poi si è dileguato. La donna ha riportato ferite guaribili in 5 giorni. Ancora non scippo quindi in città nell'ultimo periodo. Vittime preferite sono le donne anziane. La polizia continua a indagare. Attimi di paura ieri sera intorno alle 22 quando i vigili del fuoco di Padova sono intervenuti in via Venezia per la segnalazione di un incendio che ha interessato il centro commerciale Giotto. L'allarme è stato dato da un vigilante che si è accorto della presenza di fumo all'interno della struttura già chiusa al pubblico da qualche ora. Le fiamme sono scaturite da un vano adibito a magazzino di un esercizio commerciale al primo piano. I pompieri accorsi con tre mezzi e 11 operatori arrivati qualche minuto dopo per la vicinanza con il centro commerciale hanno individuato il focolaio grazie ad una termocamera all'interno di un negozio di abbigliamento. Le fiamme hanno interessato anche il negozio sushi Ginza posto al piano terreno con dei cartoni che erano appunto accadastati. Pauroso incidente stradale a piovi di sacco questa mattina in via Trento alle 11.30 la guida dell'auto una 58enne che dopo aver perso il controllo ha sbandato facendo rovesciare l'auto su un fianco in un campo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna rimasta incastrata tra le lamiere e il suo M118 che poi ha prestato i soccorsi. Il coordinamento regionale Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale insieme ai militari e ai dirigenti delle province di Padova e di Venezia ha organizzato per sabato 8 luglio dalle ore 10 una manifestazione in piazza Dante Alighieri a Conetta, frazione di Cona per ribadire con determinazione che il centro di accoglienza di Conetta deve essere chiuso immediatamente. Questo quanto ha pronunciato Berlato. La misura è colma e un immediato e radicale cambiamento della politica dell'accoglienza ai migrati deve partire proprio da Conetta e così ha detto appunto il consigliere regionale e coordinatore per il Veneto di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato. Parliamo di allarmi, allarme caldo e affa per sabato e domenica prossimi in tutto il Veneto. A seguito delle previsioni del centro meteo Arpav che annuncia ondate di calore per il prossimo weekend, il centro funzionale della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico. Di conseguenza l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha disposto all'attivazione dello specifico piano caldo approvato lo scorso aprile che prevede un'articolata serie di iniziative da parte delle varie ULS in particolare per assistere le persone anziane ai portatori di malattie croniche che possono essere aggravate proprio dalle condizioni climatiche. La regione ha quindi attiviato un numero verde 800 462 340 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo nonché il servizio di reperibilità al numero verde 800 900 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della sezione protezione civile del Veneto. L'analisi e gli obiettivi dell'operazione che ha portato all'acquisizione di alcune attività della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca sono tra i temi che sono stati affrontati nel primo incontro tra i sindacati e Intesa San Paolo. All'incontro le delegazioni sindacali di gruppo di Intesa e delle banche venete con i responsabili delle relazioni industriali di CAD e SAS. La trattativa, secondo le fonti sindacali, non è ancora entrata nel vivo perché si è scelto in via preliminare di fare il punto sull'operazione che vede praticamente 3.900 esuberi complessivi di cui poco meno di 1.100 per le banche venete e la restante invece per Banca Intesa. Auto di lusso, vacanze in luoghi esotici, cene nei locali più rinomati della Movida milanese accompagnato da donne dello spettacolo e champagne a fiumi. Tutto dettagliatamente condiviso con tanto di foto ricordo sui vari social più in voga. Il bel vivere ostentato da un 55enne di Reggio Emilia non è sfuggito però ai finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Modena che avendo incrociato il suo nome nel corso di una precedente indagine hanno iniziato a monitorare attentamente l'uomo nel suo profilo di Facebook. Il tenore di vita di LP 55 anni, ben al di sopra delle proprie disponibilità dichiarate, ha portato quindi le fiamme gialle del comando provinciale ad approfondire le sue relazioni con la realtà economica emiliana fino a scoprire abitmente occultata una fitta rete di prestanome, l'esistenza di un'articolata associazione a delinquere specializzata nell'acquisizione di realtà imprenditoriali operanti a livello locale e nazionale e poi la successiva distrazione del patrimonio ai danni dei creditori immobili, autovetture e soprattutto denaro che invece sono stati utilizzati per corrispondere il dovuto ai fornitori e alle banche che venivano impiegati praticamente per finanziare altresì i suoi lussi e altre iniziative economiche. A lui sono risaliti dopo un'indagine durata un anno nell'ambito delle quali risultano indagati a vario titolo altre 13 persone. Per cinque mesi i finanzieri della tenenza di Pisogne in provincia di Brescia hanno controllato gli spostamenti di un operaio comunale che dopo aver timbrato il cartellino in comune praticamente trascorreva alcune ore al bar, riposava in auto oppure si occupava della coltivazione del proprio orto. Al via l'undicesima edizione di Calici sotto le stelle che si svolgerà sabato 15 luglio a Monselice che costituisce un fiore all'occhiello per la città della Rocca. Un grande evento che attira nel tardo pomeriggio fino a notte inoltrata decine di migliaia di persone provenienti da un vasto territorio che comprende più province. Si svolgerà dal Castello Cini a Villa Duodo e dintorni senza trascurare ovviamente il centro storico di Monselice considerato un tutt'uno con la realtà della Rocca. Ricordiamo che appunto questa manifestazione è stata presentata questa mattina in provincia. È un evento ormai storico per il territorio della provincia. Monselice ci regala questo appuntamento che è un appuntamento atteso. È un appuntamento che sa coniugare tantissimi aspetti piacevoli delle serate d'estate ma anche della cultura, ma anche dell'astronomia, ma anche dell'enogastronomia. E per cui il saper rinascere di queste città nel periodo estivo per offrire ai cittadini, per offrire ai residenti, per offrire a tutti gli abitanti della provincia occasioni come queste sono sicuramente appuntamenti immancabili che le istituzioni hanno il dovere di accompagnare e di anche rivalutare. Questo appuntamento continua ad essere un appuntamento anche molto partecipato che anche sa rinnovarsi di anno in anno e per cui stiamo aspettando appunto di conoscere nel dettaglio i particolari del ricco programma che sicuramente offrerà a tutti una piacevole serata. Una manifestazione che anno dopo anno cresce, quest'anno in modo particolare c'è stata un'organizzazione straordinaria, un lavoro importante di gruppo, di collaborazione e questa sarà una serata straordinaria che porterà tanti turisti e tantissime persone nella zona più bella di Montsvice che è Via del Santuario. Chi salirà per Via del Santuario troverà diverse portazioni con diversi tipi di musica, quindi potrà gustare la musica, potrà visitare il castello, ci saranno delle visite anche al Torrione di Federico II e poi ci saranno le degustazioni dei prodotti tipici ma la cosa più importante è che la sera è dedicata alle stelle quindi la Proloco ha avuto l'idea straordinaria di dare la possibilità a tutti, ai bambini, a tutti di poter vedere le stelle quindi ci saranno dei telescopi e quindi ci sarà una notte straordinaria e una notte con le stelle. domani alle ore 18 nell'oratorio San Rocco di Via Santa Lucia verrà inaugurata la mostra Parva Astetica a cura di Paolo Pavan e di Brunilde Neroni aperta ad ingresso libero fino al prossimo 27 di agosto a 14 anni dalla mostra della Notte della Luce ritorna a San Rocco la scultura di Giancarlo Frison la mostra raccoglie un'antologia delle opere prodotte in quasi due decadi realizzate in terracotta, bronzo nylon e bronzo patinato che evidenziano un percorso stilistico assai originale chiudiamo qui la nostra pagina di informazione vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni ora alla linea vai colleghi delle altre redazioni buona visione